Un politrauma violento da impatto che interessarono diversi organi. Questo è il primo risponso dell'esame otoptico eseguito dall'anatomo patologo Ildo Polidoro sul corpo del cuoco professore Claudio Di Battista, il 49enne di Casteldisangro, morto tragicamente nei giorni scorsi in un terribile incidente sullo statale 17 nella Galleria Fiore, fra Casteldisangro e Roccaraso, e una morte da impatto è venuto fuori un politrauma violentissimo, spiega il medico legale Polidoro. Sul corpo del 49enne sono stati eseguiti anche prelievi ai tessuti e liquidi biologici, il cui essico però arriverà fra 90 giorni. Dolore e sgomento corrono sul web dopo la morte del professore Cuoco. Insegnava l'istituto del belghiero di Roccaraso, dove era apprezzato da colleghi e studenti. La salma è stata riconsegnata ai familiari per la celebrazione delle sequie, mentre la procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un fascicolo per far luce sulle cause che hanno provocato il violento incidente e che ha coinvolto anche tre persone. Al momento due donne sarebbero iscritte sul registro degli indagati, ma sulla rete sociale di Facebook a prevalere è il ritratto del professore con il suo carattere riservato e il suo grande impegno che ha sempre profuso nell'insegnamento e nella sua professione. L'intera comunità è in lacrime.